Lunedì 2 settembre 2013. Ho cambiato radicalmente taglio di capelli. Dicono che una donna lo fa quando vuole cambiare qualcosa della sua vita. Io l'ho fatto per l'augurio di un nuovo inizio. Quelle cose tipo chiuso una porta, si apre un portone, o semplicemente una volta terminato un'esperienza, what comes next? A ferragosto Stefania mi ha chiamato e mi ha detto a metà tra l'elettrizzata e l'entusiasta. Devo darti una notizia in anteprima. A settembre prenderai il mio posto in hotel. Le ho risposto imbarazzata. Ma che dici, Ste? Non mi sarei mai sognata di prendere il suo posto. Ed ecco, lo sapevo. Ora mi odierà. Si è immaterializzato il timore che avevo la prima volta che la vidi. Ma sì, mi hanno presa come direttrice del situm. Inizia settembre e quindi tu prenderai il mio posto in hotel, chi se no. Ho tirato un sospiro di sollievo. La nostra amicizia poteva considerarsi salva. Mi ha detto di non dire niente a nessuno, fino a quando Massimiliano non mi avesse chiamato per ufficializzare la cosa. Dopo parecchi giorni e nessuna telefonata da parte di Massimiliano, mi sono decisa ad andare da Maometto, in maniera disinvolta e non impegnativa, fingendo di non sapere niente e di essere passata solo per un saluto. L'ho trovato seduto nella solita posizione, con le gambe accavallate sulla solita poltrona della hall e sorridendo, con le braccia aperte, mi ha accolto dicendo «Wow, sei bellissima con questo nuovo taglio, sembri una donna, come stai?». Mi sono fermato un attimo, perplessa, cercando di capire cosa volesse dire con questa storia che sembro più donna, ma lui ha capito che io non avevo capito e ha chiarito. «Cioè, intendo dire che sembri una donna in carriera, non una ragazza, sei bellissima!». «Oh, ora va molto meglio!» E siamo passati a parlare delle mie vacanze e del perché non ho accettato la proposta della sua amica in quell'hotel. Mentre parlavamo, Rose è arrivata nella hall e ci siamo abbracciate, contente di rivederci. Era con una ragazza, Simona. Sono rimasta impressionata, dai suoi occhi azzurri grandissimi. Ma Massimiliano ha subito precisato «Non farti ingannare dai capelli biondi e gli occhi azzurri d'angioletto, è tremenda!». Lei ha sorriso e mi ha fatto un cenno di saluto con la mano, mentre rosa mi spiegava che è stata appena assunta al posto di Katia, alla quale era scaduto il contratto e ha deciso spontaneamente di non rinnovarlo e di smettere di lavorare per dedicarsi al nipotino che sta per nascere. Ebbene, sì, una nonna giovane gagliarda. Me l'aspettavo una scelta del genere da lei, forte come non ne ho mai incontrate. Forse un po' folle a decidere di cambiare completamente vita all'improvviso, ma in fondo chi non rischia non vince e io credo che lei sia una vincente. Mi dispiace solo non averla potuta salutare da vicino. La chiamerò. Dopo qualche caffè, per un attimo avevo dimenticato quanti caffè riuscisse a bere e a farmi bere Massimiliano durante tutta la mattinata e mi ha detto «Sai, Stefania è stata presa come direttrice di un ristorante e quindi si libererà un posto qui. Io avevo pensato a te, se te la senti ovviamente». Mi ha spiegato un po' di cose burocratiche e gli ho detto che mi faceva molto piacere, che accettavo volentieri ed è stato lì che con la sua solita disinvoltura e risolutezza mi ha detto «Perfetto, questi sono gli orari, cominci lunedì». Evidentemente nel suo immaginario non era prevista una mia risposta negativa, per questo si era messo ad aspettarmi seduto sulla poltrona bianca, una volta preparato già tutto ciò che mi sarebbe servito per ufficializzare la cosa. Come aveva detto Stefania, lo schema dei turni, il contratto di lavoro, l'appuntamento con il starto per la divisa. Oggi è stato il mio primo giorno da receptionist turnante alla Cerasella. Oggi è stato il mio primo giorno da sola dietro al desk. Oggi è stato il primo giorno della nuova fase della mia vita.